Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo all'apertenza Enigela, i sindacati confederali CGL Cisle Will accusano la regione siciliana non fa nulla in merito alla grave situazione che interessa i lavoratori dell'indotto dello stabilimento. Vediamo. La regione Sicilia può fare e non fa, anzi proprio il governo regionale scarica le responsabilità su Roma, sui tanti ministeri. La denuncia porta la firma di CGL Cisle Will in merito all'apertenza Enigela. Nell'ultimo incontro, datato 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, il verbale redatto dei presenti sottolineava che per quanto riguarda la problematica degli ammortizzatori sociali il Vice Ministro Bellanova ha confermato quanto già detto in occasione dell'incontro con le istituzioni siciliane, ovvero che la parte preponderante della problematica riguardante gli ammortizzatori sociali dell'indotto verrà affrontata in ambito regionale. I rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico incontreranno inoltre le imprese dell'indotto che si trovano in situazioni critiche al fine di verificare ogni possibile intervento a sostegno di quest'ultime. Dal 24 febbraio è già passato quasi un mese e i sindacati confederali e la Prevettura continuano ad inviare richieste di incontro e note specifiche riferite alla evidente scopertura finanziaria che tanti lavoratori stanno subendo in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali. Che senso ha il convincimento operato dal sindacato nei confronti degli imprenditori di evitare licenziamenti e percorrere la strada della Cassa Integrazione straordinaria o in deroga se poi la Regione, tornando da Roma, sceglie la via della latitanza? I segretari confederali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania hanno denunciato il silenzio della politica ed oggi, malgrado il buonsenso da parte di centinaia di lavoratori dell'indotto, annunciano azioni di protesta su Palermo subito dopo le festività pasquali. La lotta dei lavoratori, la loro pazienza, il buonsenso di alcuni imprenditori, il puntuale lavoro della Prefettura non possono ricevere la distanza istituzionale del Governo regionale che, in questa complessa vertenza, sta dimostrando inaffidabilità e colpevole disattenzione. Tutti, ribadiscono Cigelle e Cisle Will, devono rendersi conto e prendere coscienza della disperazione presente in migliaia di famiglie già in crisi per carenza lavorativa ed oggi classificabili come nuovi poveri. I sindacalisti poi pongono alcuni interrogativi. La Regione può permettersi di non considerare l'avvertenza Gela tra le più drammatiche nell'ultimo ventennio nel sud Italia? Può la stessa Regione costringere lavoratori e sindacato a manifestazioni estreme che rischiano di compromettere l'ordine pubblico? Può la Regione ledere la dignità di tanti uomini e tante donne in attesa di risposte concrete? Il silenzio del Governo regionale fa sorgere altre domande. Forse non esistono le somme stanziate da parte del Governo regionale riferite agli ammortizzatori sociali? Se così fosse, chiudono i sindacati. Perché lo stesso Governo non ha detto nulla durante la riunione del 24 febbraio al Ministero? Questo atteggiamento inquieta il sindacato confederale che pretende dal Governo una risposta chiara, così da comprendere quale strada intraprendere per tutelare il reddito di centinaia di lavoratori. E adesso parliamo di politica continua, lo scontro in seno al Partito Democratico di Gela. Fabio Collorà e Giuseppe Ferrara si scagliano contro il segretario provinciale Giuseppe Gallè. Il segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Gallè sembra non avere dubbi, noi invece sì. Quindi interrogarci oggi sulla bontà dell'azione che stiamo mettendo in campo dopo il congresso del 13 marzo sembrerebbe un esercizio che non ci aiuta ad affrontare il problema con la serietà e con la determinazione che il momento ci impone. Lo dicono Fabio Collorà e Giuseppe Ferrara, rispettivamente segretario e presidente del PD Gela 2016. Evidentemente, dicono, questioni che hanno riguardato e riguardano i destini della comunità giulese non sono comprensibili al segretario Giuseppe Gallè. La portata dei drammi umani, sociali ed ambientali sono sotto gli occhi di tutti, ma per Gallè stanno lontano, più di 80 chilometri. Noi continuiamo ad essere dell'idea che è sempre meglio pensare di emulare Rivera che di gol, per lo più frutto di genio e fantasia, ma in ogni caso regolari ne ha fatti parecchi, anziché assurgere al moggi della situazione, cui certi autogol, senza nemmeno scendere in campo, tanto male hanno fatto al calcio. Dall'arresto è più importante per Gallè arzigogolarsi ad interpretare gli aspetti burocratici e statuari e del PD, naturalmente ad uso e consumo di parte. Mentre Roma si discute, Sagunto cade. Sappiamo bene, continuano con Lora e Ferrara, che chi vuol innovare, costruire e cambiare disturba sempre qualcuno, suscitando, come è accaduto, scomposte quanto inutili reazioni mirate alla delegittimazione di quanti, invece, attorno a queste questioni, vogliono ritrovarsi per continuare questa battaglia, che è una battaglia di democrazia e di libertà. La nostra non è dunque una scelta ideologica, bensì una scelta a tutela delle comunità che vogliamo rappresentare, e Gela in questo momento ha bisogno di un PD inclusivo, senza esclusioni, a partire dalla celebrazione dei congressi di tutto il PD e tutti legittimati. Per questa via allontaniamo da pensieri artificiosi, attribuzioni tendenziose, circa presunte dichiarazioni diffamatorie e calugnose, nei confronti di Peppe Di Cristina, a cui vogliamo bene e le cui doti politiche ed umane riconosciamo. Auspichiamo, chiude la nota, che la segretaria Quelle voglia prendere atto dei limiti manifestati sulle attenzioni riposte alla città e al partito di Gela, e lasci ad altri giovani dirigenti, quelli liberi e incondizionati, ma impegnati a rifondare con la propria freschezza culturale, che un partito democratico diverso e una città diversamente bella e prosperosa è possibile. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle chiede al sindaco Domenico Messinese la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione di un chiosco in piazza Lagrange, perché è in contrasto con le norme di sicurezza previste nel piano comunale di protezione civile, dove quella piazza è classificata come area di attesa, accoglienza ed ammassamento in caso di sisma. Sul posto ci sono stati già controlli dei vigili e di altri settori del comune. I titolari della concessione sostengono che tutto è in regola. Fronteggiare ed arginare un drammatico fenomeno in continua ascesa, il bullismo. Se ne è parlato ieri alla scuola Ettore Romagnoli di Gela, diretta da Sandra Scicolone. Si è svolta ieri alla scuola Ettore Romagnoli di Gela la seconda giornata regionale per il contrasto al bullismo nelle scuole. Erano presenti, oltre le autorità civili, militari e religiose, il presidente del Tribunale per i minori di Caltanissette, il procuratore capo dello sesto presidio giudiziario. Ho avuto modo di citare la tesi di un giudice onorario del Tribunale per i minori emblematicamente intitolata dal bullismo alla mafia. In fondo il bullo e il mafioso fanno ricorso alle stesse categorie mentali, pratiche. Entrambi usano una violenza, che può essere violenza fisica, può essere violenza verbale, può essere violenza psicologica. Entrambi fondano il proprio operato sull'omertà, cioè sul fatto che chi sta attorno, la vittima e il contesto sociale non parlano, non denunciano. Non necessariamente dal bullismo alla mafia, ma dal bullismo al reato, questo sì. Dottoressa, purtroppo il fenomeno del bullismo è un fenomeno in continua scesa nelle scuole a partire dalla primaria. Qual è il confine tra questo fenomeno e poi i comportamenti devianti? Beh, guardi, intanto effettivamente confermo che si tratta di un fenomeno in crescita, perché l'ufficio che io dirigo, la procura presso il Tribunale per i minorenni, ha una dimensione distrettuale, quindi il mio osservatorio è un osservatorio privilegiato, perché abbiamo dinanzi la provincia di Caltanissetta e la provincia di Enna. E devo dire che abbiamo registrato diversi casi, persino dei casi di bullismo rispetto a minorenni non imputabili, quindi che ancora non hanno raggiunto il 14esimo anno di età, e rispetto ai quali comunque la procura si può muovere grazie alle competenze in ambito civilistico. È un fenomeno che bisogna prendere molto seriamente, perché dicevo poco fa ai ragazzi non c'è nessun tipo di equivalenza tra il fenomeno del bullismo e comportamenti di tipo mafioso, però è anche vero che a volte i comportamenti del bullo sono dei comportamenti che costituiscono l'anticamera rispetto all'assunzione di quelle condotte che poi noi andiamo a perseguire negli adulti e non solo negli adulti e che hanno una connotazione prettamente mafiosa. Quindi è sicuramente un problema rispetto al quale noi dobbiamo avere una grandissima attenzione che va assolutamente affrontato sia in ambito repressivo, preventivo, sia in ambito ovviamente educativo. Ha relazionato tra gli altri il responsabile dell'osservatorio provinciale di spersione scolastica Salvatore Benfante Picogna. Che cosa un insegnante deve fare immediatamente quando si accorge di trovarsi dinanzi a questo tipo di fenomeno? Sicuramente l'insegnante deve intervenire perché uno dei compiti appunto della scuola è quello di educare i bambini, gli adolescenti ai comportamenti socialmente condivisi e quindi creare buone relazioni tra gli studenti ed evitare queste forme devianti che certamente in ambito scolastico vanno trattati con gli approcci, con i metodi educativi. È chiaro che quando si ha la percezione che questi fatti siano gravi vanno assolutamente informate per il tramite del dirigente scolastico anche l'autorità giudiziaria, la quale come il Tribunale per i minorenni e la Procura per i minorenni non hanno soltanto il compito di reprimere ma anche quello di prevenire, quindi loro agiscono solo ed esclusivamente nell'interesse del minore. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. Molti episodi che vedono soprattutto studenti vittime di atteggiamenti che possono in qualche maniera accostarsi al fenomeno sociale del bullismo spesso perdono anche il piacere e la gioia di andare a scuola proprio perché temono di entrare in un contesto che non è più amico, in un contesto che diventa luogo di pericolo, in un contesto dove non si sentono accettate. Quindi è ovvio che possa esserci un percorso non parallelo ma assolutamente coincidente tra fenomeni di dispersione e fenomeni di bullismo. Le scuole in ogni caso devono essere sempre in prime linee nel fronteggiare un fenomeno che è statisticamente presente in maniera rilevante proprio all'interno delle istituzioni scolastiche, proprio all'interno delle dinamiche d'aula. La pagina della cronaca nera auto in fiamme la scorsa notte a Gela in via Galileo Galilei il fuoco ha interessato una Polo Volkswagen di proprietà di un libero professionista di 53 anni sul posto polizia e vigili del fuoco. Numerose lettere inviate all'amministrazione comunale precedente ed attuale al fine di intervenire per rendere una zona di Gela praticabile. Tante le richieste avanzate ma al momento attuale nessuna risposta. Ci troviamo in via Recanati. Una parte di strada è asfaltata, l'altra no e quando piove le abitazioni che insistono al piano terra vengono inondate d'acqua. E non solo, la zona è piena di insetti e ratti. Ancora oggi abbiamo una rete idrica che è un collaborato, che si possono vedere alcune perdite che sono state condivide con Gela d'acqua per farle riparare e nessuno si vede. La rete fognaria è una rete fognaria fatta pure da 40 anni, sempre privatamente. Tant'è vero che con l'acqua, spesso e continuo, vengono degli autospurghi per spurgare proprio questa linea. È impossibile venire in queste zone e io mi chiedo com'è possibile che quasi alle porte del 2020 ancora in città esistano queste strade. vorrei un attimo una presa di coscienza dai nostri dirigenti, dai nostri sindaco e tutta via a scendere. Com'è possibile ancora che la gente vivere in queste condizioni? Però pagano che tasse. Parliamo di una strada comunale anche se sembriamo in aperta campagna. Io invito queste persone per la seconda volta, per la terza volta, per quello che è. se loro si mettono la mano della coscienza e diciamo guarda che noi dopodomani facciamo le cose, però dopodomani. Non che mi dicono il giorno, l'ora, però l'anno non lo so, non lo sappiamo ancora l'anno. Ora speriamo che oggi il telegiornale se lo sente qualcuno che è responsabile veramente e dice guarda diamo un bugno a questa cosa di qua. Puntata speciale questa settimana per Agora che in via del tutto eccezionale ed in concomitanza con le festività pasquali non andrà in onda di venerdì come nel palinzesto ordinario di Agora ma di giovedì. Appuntamento dunque con una puntata che tratterà un tema che è stato al centro dell'attenzione di un intero territorio sul quale si erano appuntate tante speranze. Ossia il progetto del più grande parco agrofotovoltaico d'Europa denominato il Cirigino è portato avanti dall'agroverde. A tre anni dalla sua inaugurazione in Pompa Magna non c'è nulla di concreto se non nelle macerie di una vasta area agricola. Vi ricordiamo l'appuntamento giovedì alle 21 con Agora condotto in studio da Franco Gallo. Le scene salienti della vita di Gesù dall'annunciazione alla resurrezione si tratta dell'opera realizzata da un gruppo di docenti della Scuola Santa Maria di Gesù di Gela. È il frutto della sinergia delle competenze e abilità legate al mondo della storia, arte e tradizioni inserito nell'ambito del progetto Scuola e Territorio. Gesù Cristo è una figura storica documentata quindi non è solo un momento religioso. Certo per chi è cattolico riveste anche un'importanza religiosa ma oltre al tema sicuramente è importante l'idea progettuale, il costruire, il fare che per i ragazzi diventa importante soprattutto per alcuni ragazzi, quei ragazzi che magari non hanno l'opportunità di dare, dimostrare ciò che sanno fare perché magari non sono così bravi a parlare mentre a fare diventano più bravi. I docenti che hanno realizzato l'opera. In una società in cui si tolgono i crocivisti dalla scuola, non si festeggia più il Natale invece è bellissimo il fatto che la nostra preside, ed è questo che io volevo sottolineare, ha voluto prepotentemente questo progetto oltre per la bellezza e quindi un discorso estetico soprattutto per un discorso di tradizioni, di valori. Non si può dimenticare che siamo cattolici e che quindi la nostra cultura è formata da questo. Non si può dimenticare e ricordarlo, ricordarlo ai bambini è fondamentale. Anche altri possono visitare l'idea progettuale? Sì, soprattutto è aperto al territorio proprio perché magari è una realtà che deve essere conosciuta da altri per lo stesso discorso che diceva il collega, proprio per puntare sul valore di questo progetto che non è solo un valore così artistico, artigianale perché siamo stati tutti degli artigiani, ci siamo inventati e reinventati, però è il valore, è importante oggi capire i valori cristiani. L'idea progettuale è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di un architetto. Cosa avete utilizzato per realizzarlo? Un po' di tutto, siamo passati dal materiale di riciclo quindi con i giornali che i bambini hanno portato da casa quindi aiutando anche la comprensione, l'educazione al riciclo, abbiamo usato la colla, abbiamo usato degli scampoli di stoffa che avevano a casa quindi abbiamo usato quello che era scartato, il legno, il gesso, i colori, insomma un po' di tutto veramente. Una giornata, quella che coincide con l'arrivo della primavera, è interamente dedicata a ripulire, purificare e colorare di vita le aiuole della scuola guidata dal dirigente scolastico Mirella Di Silvestre. L'iniziativa si è svolta nel plesso Rico Fermi della Majorana dove hanno sede il liceo artistico e l'IPIA. Grazie all'impegno amorevole e profuso da ragazzi e da docenti e dalla consulenza ed al generoso contributo del vivaio Falcone le aiuole dimenticate da tempo sono tornate ad esplodere di biodiversità. Tantissime sono le essenze messe a dimora di piante aromatiche ed ornamentali, alberi da frutto, autoctoni ed anche arbusti che potranno con le loro bacche invernali attirare e nutrire bellissimi uccelli come i pettirossi e i codirossi. L'iniziativa rappresenta l'inizio di un progetto triennale intitolato Profumi di Sicilia. Inserito nel programma delle attività sui 35 anni di Canale 10, Racconti di mafia è il titolo di una serie di documentari che trattano un tema importante e delicato come la mafia che ha insanguinato le strade gelesi tra la fine degli anni 80 e gli inizi del 90. Racconti di mafia traccia un percorso importante non solo della storia gelese ma anche di quella nazionale. Durante il corso delle puntate vi sono importanti interventi di rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine e diverse testimonianze di collaboratori di giustizia. La seconda puntata di Racconti di mafia andrà in onda questa sera alle 21 ed in streaming sul portale tg10.it Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale è stata pubblicata al Comune di Gela la gradutoria dei beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili. L'elenco comprende anche i nomi degli esclusi per mancanza di requisiti. Le gradutorie sono consultabili negli uffici comunali della segretaria sociale in Viale Mediterraneo. Musical ieri a scuola lo hanno portato in scena gli alunni delle quinte classi della Luigi Capuana. Alunni attori ieri sera nei locali della scuola Luigi Capuana di Gela, grazie alla preziosa collaborazione dei docenti, hanno portato in scena il musical Il Risorto. È stato un appuntamento che ha richiamato l'attenzione dei genitori ed anche di alcuni curiosi. Un po' faticoso, ma ci siamo impegnati, ci siamo divertiti. Ed è stato bello vedere l'applauso del pubblico. Sì, è bellissimo. E noi questi musical li facciamo con un significato della recita, non per farla così tanto per. Ed è stato facile oppure impegnativo? Facile perché già era scorsa e ci è venuto facile fare, era solamente una ripassata. Soddisfatto il dirigente scolastico Cetta Mongelli. Questo messaggio dell'amore all'altro è stato importantissimo proprio all'interno di questo gruppo classe. I genitori di questa classe sono stati eccezionali, favolosi e quindi hanno accettato anche per i loro figli momenti di difficoltà. Però ce l'abbiamo fatta. Siamo in quinta, i bambini sono sereni, anche i genitori sono sereni e le maestre hanno dato l'anima. Questo musical, il risorto, è proprio la chiusura più bella che poteva esserci per cinque anni trascorsi con momenti di difficoltà, ma sempre superati alla grande. I docenti che hanno preparato gli alunni alla rappresentazione musicale sono rimasti piacevolmente colpiti dal modo in cui gli studenti hanno messo in campo le loro capacità. Di solito a livello scolastico che cosa si rappresenta? Soltanto il Natale. Si fa il presepe, si fanno delle rappresentazioni anche in parrocchia. Però noi, come proprio scuola, abbiamo voluto invece toccare proprio l'animo, l'animo dei bambini e anche penso del pubblico, facendo proprio questa rappresentazione nel periodo proprio di Pasqua, in questa settimana santa. I nostri bambini sono assolutamente abituati ad interpretare, a fare certi musical e poi è anche facile perché sono abituati questi bambini, questi nostri alunni, a comunicare emozioni e sentimenti attraverso il corpo. Noi diamo molta importanza alla comunicazione intrapersonale e interpersonale, per cui diciamo che non è stato difficile. Era già nell'aria la qualificazione ed è arrivata. Per il secondo anno consecutivo il Volley Gela Femminile, settore under 16, si qualifica per la Final Four provinciale. Le ragazzine gelesi, campionesse in carica, cercheranno di confermare la propria forza rispetto allo scorso anno. Il roster è formato da vecchi e nuove atlete. Dimostrazione del buon lavoro, di crescita, che l'allenatore Giacomo Tandurella ha saputo fare nel settore giovanile. Quest'anno le finali dal primo al quarto posto si daranno a Gela, da giovedì 24 marzo, nella palestra dell'Istituto Professionale Enrico Fermi e a Pala Cossiga. Grande successo per l'evento sportivo che si svolge ogni anno, nel primo giorno di primavera, nel parco di Montelungo a Gela. L'appuntamento è organizzato dall'associazione Green Esport. Anche quest'anno la corsa campestre ha avuto la sua location privilegiata, al parco di Montelungo. Che bilancio è quello di quest'anno? Ma direi favoloso, eccezionale. Ancora, magari qualche altro aggettivo lo aggiungerei. Però siamo alla settima edizione del cross di primavera. Oltre 800 bambini partecipanti, accompagnati dai rispettivi genitori, insegnanti e spettatori, nonni, zii, insomma, che sono venuti qui a trascorrere il primo giorno di primavera. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, a vedere i colori della natura e a sentire i suoni degli animali che si risvegliano. Sicuramente è un bilancio non che positivo di più. Portare qui centinaia di bambini e le scolaresche a vivere questa giornata è emozionante, soprattutto per la valorizzazione di questo sito e di questo parco urbano. Finalmente possiamo tirare le somme e speriamo che l'amministrazione comunale percepisca questi messaggi. Ma non solo da parte della Green Esport, ma di tutta la cittadinanza che è venuta qui a trascorrere questa giornata. Corpo Forestale, Emilio Giudice, Lago Biviere, Croce Rossa, tutti si sono prodigati per la sicurezza, il divertimento e la valorizzazione della natura e soprattutto per la Green Esport che ancora crede e combatte su questi valori. Oggi dunque vince lo sport e il rispetto della natura? Vince lo sport e vincono gli alberi che abbiamo donato ai bambini che porteranno a casa, orgogliosi, che pianteranno anche a scuola perché abbiamo premiato anche le scuole con gli alberi. Insomma, la voglia di avere del verde sempre di più in una città martoriata dall'inquinamento e speriamo che con questi alberi lanciamo un messaggio forte di vita e di crescita. La pagina dello spettacolo è previsto per giovedì 24 marzo alle 21 al Teatro Eschilo di Gela, lo spettacolo The Robert Segeret Show. Si tratta di uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Il costo del biglietto unico è di 10 euro, ridotto 8. Per informazioni, rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20. Ci sono due numeri telefonici, 0933 91 18 92 e 345 58 80 580. E da giovedì 24 marzo al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela sarà proiettato il film La macchinazione e chi ha ucciso Pasolini. Sono tre gli orari, 17 e 30, 19 e 30 e 21 e 30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.